Giornata del volontariato domani 5 dicembre. È importantissimo ringraziare i volontari, ci è sembrato opportuno e veramente importante ringraziare i tanti volontari che quotidianamente animano i centri di comunità della nostra territoria. Sono tanti, sono dislocati su tutte le circoscrizioni della città e agiscono con visione intergenerazionale a favore degli anziani, sicuramente dei ragazzi, dei bambini. Proprio per rendere la nostra città una rete di relazioni, una rete di automutuo aiuto tra tante persone per abbattere la solitudine e rendersi vicini ai cittadini che risentano più loro il territorio dove vivono.